Quando non si sa che strada prendere, può accadere che sia la vita stessa ad indicarcene una. Questo è quello che accade a Claudia De Angelis quando riceve una chiamata da Oxford. Un cadavere trovato nel fiume, Claudia, l'ispettrice di polizia, che cerca la verità. C'è in gioco non solo la ricerca di un colpevole, ma la salvezza di tante vite innocenti. Quando l'inquietudine della fuga deve lasciare spazio all'azione. Dentro il bianco, il nuovo thriller di Sonia Bucciarelli, Masciulli Edizioni. Disponibile online e sul sito masciulliedizioni.com Spedizione gratuita in tutta Italia. Spedizione gratuita in tutta Italia.